ben ritrovati amici di auto occasioni un'altra puntata insieme una puntata direttamente da power bike realtà presente sul territorio pensate dal 2004 e con una formula assolutamente imperdibile da andare a scoprire formula che vi permette di acquistare la vostra prossima nuova moto con la prima rata 120 giorni quindi per quattro mesi non pagate assolutamente nulla e dopo 24 mini rate con le soluzioni secondo le esigenze del cliente finanziamento totale con spese accessorie incluse e partiamo con benelli la moto più venduta in assoluto in italia pensate che power bike è l'unico concessionario a torino ad avere le versioni 2021 euro 5 e partiamo con i trk che potrà essere vostro con solo 60 euro mensili e continuiamo in casa benelli passiamo alla bn 125 che potrà essere vostra 25 euro al mese e passiamo in cooder in cui power bike è concessionario ufficiale per tutto il piemonte pensate cooder quattro ruote soltanto 90 euro al mese mentre cooder tre ruote potrà essere vostro con una rata di soltanto 70 euro al mese vi ricordo che power bike è anche nuova concessionaria peggio ed è la prima su torino ad avere anche qui versioni 2021 euro 5 passiamo in appunto casa peggio con un bellissimo peggio metropolis 400 una promozione spettacolare pensate ben 1400 euro di sconto quindi rata con soltanto 85 euro al mese power bike è anche concessionaria ufficiale in monte liguria e val d'aosta con votan una davvero un brand esclusivo spagnolo con dei prezzi assolutamente pazzeschi partiamo da questo 125 che potrà essere vostro con l'esclusiva promo power bike a 25 euro al mese e passiamo al 300 sempre in casa votan che potrà essere vostra a soli 39 euro al mese e andiamo in casa archive marchio francese di cui power bike è concessionaria ufficiale per tutto il piemonte e qui pensate potrà essere vostra a partire solo con 29 euro al mese quindi sempre con una formula che vi permette per quattro mesi di non pagare assolutamente nulla siamo quasi giunti in chiusura io vi ricordo che ci troviamo in corso orbassano 72b quindi nel centro di torino vi ricordo anche che esiste la formula esclusiva power bike formula che vi permette di non pagare nulla per quattro mesi quindi questo significa con prima rata a 120 giorni 24 mini rate con le soluzioni secondo le esigenze ovviamente del cliente e finanziamento totale con spese accessorie incluse e quindi io vi invito a venire qui da power bike in corso orbassano 72b e da qui è tutto alla prossima puntata e quindi Grazie a tutti.